Prima di ascoltare il corso a Pazzaro abbiamo un momento musicale e poetico. Le poesie per il piacere di leggere sono del maestro Giorgio Mattei, sarò accompagnata dal pian forte del maestro Simone Guaitoli e al saxofono del maestro Giorgio Mattei. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Il primo grano di Sinkraunov è Laura Maria di Franz Schumer. Roma Maria di Franz Schumer. Ma Vricale . profondato, eterna e lontane, ma brilla come una stella del nord, risplendendo sulle nebbie patate. Tempo del ricordo, tempo della memoria, recinto del sangue, spazio infinito, mia eterna fine. Poi, poi, quando il brivido passa, rimane una canzone, rimane nel ricordo degli occhi, sulla pelle, oltre il pensiero, che giorno dopo giorno, inesorabile, scivoletto verso l'incretutine, verso l'assolitudine. Ora sentiamo un largo strumento movimento dal governo delle quattro stagioni di Antonio invitato. grazie a tutti 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 grazie a tutti